La conflittualità umana e il disagio esistenziale e climatico sofferto nella sua terra d'origine lo aveva portato a ricercare un luogo senza patimenti. Pensava ad un clima destinato dalla natura alla specie umana. Lo aveva ricercato vanamente. Poi l'incontro non voluto con la stessa natura. Egli bramava una solitudine serena senza dover patire continuamente le difficili condizioni ambientali. Si era ritrovato dinanzi proprio a colei che era la fonte delle sue disillusioni e dei suoi disagi. Eppure era stato coraggioso al punto di chiedere a lei, alla stessa natura, le ragioni della manifesta presenza del male nella vita umana. Vanamente. Comprendevo profondamente le riflessioni morali di quel saggio migratore. Il fine dell'essere umano, egli osservava, è la felicità. Invece l'uomo è infelice. La vita umana è paradossale. Dovrebbe essere sinonimo di felicità. Produce un effetto contrario. La vita stessa avrebbe dovuto stabilire negli uomini un equilibrio indolore tra i loro desideri e le loro possibilità. Ma la natura a questo non ha saputo o voluto provvedere. La natura, avvertivo dal dialogo, non ha un fine da raggiungere. Forse non è eterna e proprio sul piano morale si esime da ogni responsabilità. La sua è una forza meccanicistica che non conosce interruzioni. Un processo di distruzione e costruzione necessario alla conservazione dei generi e della specie. All'abitante d'Islanda, che gli effetti di tale processo aveva individuato per chiederne la ragione e il senso, la natura aveva replicato con una logica disumanizzante e incontrovertibile. Quel viaggiatore del deserto era stato ridotto al ruolo di presenza superflua. Il suo sdegno non poteva più giungere ad alcun destinatario. Ed anche l'ultima, accorata richiesta dell'islandese, a che Giova tutto questo, non aveva trovato risposta. Anzi, quella domanda era stata interrotta bruscamente dall'arrivo di due leoni affamati e stremati. Quindi, ebbi l'impressione che non avessero neppure la forza di mangiare quell'islandese. Una tempesta di sabbia mi impedì di vedere la conclusione della vicenda. Più tardi seppi da una lodola immigrazione, anche lei curiosamente nata in Islanda, che il suo conterraneo si era salvato per un pelo dai due macilenti leoni, ma non da una spaventosa onda di vento che, dopo averlo steso a terra, gli aveva rovesciato addosso un monte sabbioso che, al momento, aveva l'apparenza di un enorme mausoleo. Di lì a poco, stando sempre al racconto di quella lodola, sarebbe divenuto una bella mummia. Come già la sfinge, che eludeva l'univocità e la sensatezza richiestela dai visitatori che la interrogavano, quella singolare donna era rimasta di pietra, impenetrabile agli affondi dialettici dell'uomo, e ne aveva decretato una fine beffarda ed ingloriosa. In tutti e due i casi, quel degno rappresentante dell'umanità era stato destinato alla distruzione. Finire nella pancia dei leoni ed essere almeno di momentaneo sollievo alla loro condizione di poveri animali affamati, come pare assai probabile, consolidare a futura memoria, l'essere suomo al grado, una creatura inutile a sé e alle altre specie, diventando una mummia incarcerata per sempre nell'immobilità inconsistente e aleatoria delle lune di sabbia tutte uguali e diverse, un'altra piccola e transitoria duna tra le innumereboli all'interno dell'immensa Africa. Nell'allontanarmi da quel luogo osservai ancora una volta lo sguardo di quell'antica forma carnefice e nemica dei suoi figli. Mi ricordava stranamente mia madre. Ancora una volta avvertivo una sottile analogia tra la mia vita e quella dell'islandese. Le nostre strade, pensavano, si erano incrociate nel deserto africano in una comune rotta verso la conoscenza. Nei giorni successivi raggiunsi un'isola dalla splendida vegetazione, un luogo incantevole, ricamato da torrenti e cascate che, disposte a corona, precipitavano sui frangenti. In riva al mare le rocce scendevano a picco, le pareti erano coperte da un fittissimo manto di alberi. vi rimasi per molto tempo trovando un comodo rifugio presso una riva sulla quale giacevano nomi e date di antichi avventurieri, storie di uomini, ricordi di emozioni, di sogni. Un giorno mi allontanai molte miglia da quella straordinaria e non più misteriosa isola.